Ciao, sono Federico Duse, il Presidente dell'Associazione Mellart. Abbiamo fatto questa decorazione murale di 40 metri, contestualizzata alla flora marina triestina, al lettering, che parte dal bidimensionale all'inizio del muro fino al tridimensionale di Canzutti. Quindi abbiamo la parte iniziale in cui un libro crea questa grafica, questo sfondo marino, con appunto soggetti tipici del nostro golfo, come l'orata, il calamaro. Poi ci sono dei soggetti più grandi e soggetti molto più piccoli, come il cavalluccio marino e altre piccolezze. Al muro ora mancano ancora dei riflessi di luce, la luce che scende la rifrazione dell'acqua. Abbiamo provato a fare un'illusione ottica con le colonne, mettendo le colonne sulle colonne. Si spera che il muro reagisca bene e che tenga su tanti anni, insomma il lavoro è di ottima qualità. Questa è l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia degli street artists. Siamo quattro street artists aiutati da altri cinque o sei collaboratori che hanno aiutato per gli sfondi. I quattro street artists principali sono Lorenzo Canzutti, Michele Nardon, Claudio Paolini e Dio, che sono Federico Duse e che ho curato il progetto dello sfondo. iniziamo a fare un'illusione ottica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, un giorno. Puglia! Questa è la pignata. Orara pronta? Orara pronta. Qua se mangia a tutti. Qua se mangia. Almeno per scagliorare la più grande della città.